E' scritto a parlare per cinque minuti il senatore Romeo. Sì, grazie Presidente. Invece noi della Lega ringraziamo il Governo per essere intervenuti tempestivamente sull'ultima trovata green della finanza mondiale, ossia questa carne sintetica che adesso per renderla più digeribile all'opinione pubblica, nazionale e mondiale la chiamano carne coltivata. Già la parola green più la sento più mi fa venire l'orticaria, quindi bene comunque un intervento da parte del Governo perché posso capire che ci siano alcune lobby internazionali che naturalmente intendono fare affari con la transizione energetica con la scusa del cambiamento climatico. Non è che mi stupisce o ci stupiscono queste cose. Sappiamo che il mondo è mosso prevalentemente da interessi economici, dal cosiddetto dio denaro e quindi di cosa ci dobbiamo stupire? Lo sappiamo. Come non ci dobbiamo neanche stupire che queste multinazionali sostanzialmente finanzino delle azioni volte a spingere gli stati nazionali a investire su queste tematiche, su queste nuove tematiche. Non è una novità, l'abbiamo detto più volte che anche i cosiddetti ecotepisti che vanno a parlare dell'ambiente, non sono certo giovanotti che sono veramente animati da questo spirito ambientalista perché poi abbiamo scoperto e l'abbiamo letto sui giornali che appartengono ad una rete internazionale finanziata da un fondo californiano con sede a Beverly Hills creato da un ex collaboratore di Bill Gates. Quindi complimenti all'anima ambientalista di questi giovanotti. Ma del resto l'abbiamo sentito dire anche dal collega Cantalamessa, ieri, che ha citato il forum di Davos, dove abbiamo sentito il, diciamo così, Klaus Schwab, che è uno degli organizzatori di questa organizzazione privata di alto livello, sostanzialmente un governo mondiale non eletto, che ha dichiarato che mentre l'umanità si dirige ulteriormente verso un futuro post-carbonio, il popolo deve accettare che mangiare la carne e la proprietà privata sono cose semplicemente insostenibili. Ecco, il fatto che questo governo non si faccia dettare l'agenda politica da questi signori è un fatto politico rilevante. Grazie al cielo c'è un governo di centrodestra. Premesso, e lo dico, il sacro santo insegnamento che va fatto a tutti, a partire dai ragazzi, che naturalmente bisogna rispettare l'ambiente, va tutelato, bisogna diversificare le fonti energetiche, investire nelle fonti rinnovabili, rispettare la natura prendendosi cura del proprio territorio, cercando di ridurre i consumi, i materiali più inquinanti, tutto sacro santo, giusto, l'ho detto più volte, sono contento che nelle scuole si insegni questo. Però, vedete, pensare e addirittura credere che il cambiamento climatico sia un fenomeno del tutto nuovo e che sia tutta responsabilità dell'uomo, come se l'irradiazione solare, i cicli planetari, che sono sostanzialmente i cicli astronomici legati alle variazioni solari, il peso delle orbite, tutto questo non abbia alcuna influenza a proposito di scienza, visto che si parla molto di scienza in quest'aula, piuttosto che il periodo caldo romano, quello medievale, la piccola glaciazione, il processo di ritirata dei ghiacciai non siano mai esistiti. Ecco, il clima della terra è sempre cambiato e ce lo dice il senatore a vita Carlo Rubbia, fisico italiano e vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1984 e il senatore a vita dal 2013, a cui chiedo un applauso forte perché dobbiamo anche ricordarci di chi ha studiato ed è in quest'aula e dovrebbe insegnare a tutti quanti. Credere poi addirittura che fra poco non ci sarà più il cibo disponibile, che saremo costretti a vivere in zone desertificate a causa del riscaldamento globale, credere che sei in Europa, causa dell'8% delle emissioni di CO2 nel mondo, mentre tutti gli altri continenti sostanzialmente si disinteressano. A proposito, a me hanno sempre insegnato che la CO2 è alla base della vita e non è un inquinante, anzi, ha effetti positivi per le foreste, tanto decantate, e per l'agricoltura. Comunque, che se in Europa compreremo solo auto elettriche, andremo tutti a 30 km orari, se metteremo i pannelli fotovoltaici ovunque e se rinunceremo soprattutto a mangiare la carne, perché gli allevamenti bovini inquinano, e mangeremo invece un bel panino con la carne sintetica o con gli insetti, salveremo il pianeta, perdonatemi, è semplicemente contro ragione e contro ogni logica. Questo sì che è semplicemente ridicolo. Ma non mi preoccupano certi discorsi fatti in quest'aula, la politica la conosciamo bene da tantissimo tempo. Quello che mi preoccupa invece è che questa nuova religione, perché di religione si tratta, non di scienza, di religione, venga insegnata nelle nostre scuole ai nostri ragazzi, che vada avanti il governo, perché questo non è solo un aspetto di un provvedimento, è un aspetto culturale che va assolutamente contrastato. Complimenti al governo, ai relatori e a tutta la maggioranza per il coraggio che abbiamo avuto, sì, di denunciare questa ennesima vergogna green. Grazie.